Un destino da pollo di Tommaso Landolfi. Occhio a non fare la fine di un pollo, si dice anche, no? Ed è proprio quello che, insomma, non posso dirvi tutto, però che potrà emergere dalla lettura di questo racconto di Tommaso Landolfi. Tommaso Landolfi è stato un narratore molto originale, nel senso che ha scritto dei racconti che nella sua epoca non scriveva nessuno. Intendo dire, nel periodo del ventennio fascista, c'era qualcuno che scriveva racconti, per esempio, in stile horror, del terrore, oppure con protagonisti licantropi, lupi mannari, fantasmi, racconti fantastici di questo genere. No, non c'era nessun altro, se non Tommaso Landolfi. E nella storia della letteratura italiana rappresenta un punto di svolta importante. Purtroppo non è stato molto amato dal pubblico, non è stato molto letto. Cerchiamo di conoscere questo autore, che è originalissimo. Lo stesso Italo Calvino, per esempio, l'aveva apprezzato moltissimo. Tommaso Landolfi, benissimo. Qui vedete, per esempio, l'anno di nascita, l'anno della morte. Nasce nel 1908 a Pico Farnese. Non conosco questo paese, ma deve essere abbastanza vicino a Roma. Da famiglia nobile. Nel 1932 si laurea in lingua e letteratura russa all'Università di Firenze, discutendo una tesi sulla poetessa Anna Akhmatova. Sempre a Firenze collabora a diverse riviste, quali letteratura a Campo di Marte. Nel 1937 esce la prima raccolta di racconti, precedentemente apparsi su riviste Dialogo dei massimi sistemi. Sul vostro libro si sottolinea anche il fatto che lui era un antifascista. E anche se magari allora non si poteva esprimere l'antifascismo in quegli anni del ventennio in modo diretto, esplicito. Lui comunque non aveva nulla a che fare, ad esempio, con la retorica, con l'ideologia e la cultura del regime. Fu anche incacerato per un breve periodo. E poi comunque, diciamo, che partecipò alla resistenza, o comunque fuggì in montagna per evitare i rastrellamenti, appunto, dei fascisti e dei tedeschi. Nel frattempo scrisse, scrisse. A questi seguirono diversi racconti, tra il fantastico e il grottesco, che caratterizzano la produzione del primo Landolfi, tra i quali spicca la novella Racconto d'autunno del 1947. È evidente già dalle prime opere il tema della vanità dell'agire umano, trattato con un'apparente e spesso divertita leggerezza, che può però trasformarsi in disperazione e delirio romantico quando si autocompiace nella propria ironica tristezza. Ascoltate, ragazzi. In pratica noi però, soprattutto, oggi leggiamo questo racconto per la tematica che stiamo affrontando. Vi ricordate anche con quel racconto di Stefano Benni? Cioè l'alterazione, la contaminazione della natura. Vi ricordate che anche in quell'altro racconto, anche quello fantastico, di Stefano Benni, abbiamo affrontato questa tematica. Se noi uomini andiamo ad alterare gli equilibri della natura, poi tutto si ritorce contro noi stessi. è la stessa tematica che anche Landolfi, nello stesso modo ironico, se vogliamo, di Stefano Benni, affronta con questo racconto. Tanti decenni prima, eh. Fatta eccezione per brevi soggiorni all'estero, la vita di Landolfi si svolge per lo più tra Roma, le case da gioco di Sanremo, soffriva un po' di ludopatia. Cioè praticamente giocava. Giocava molto, no? La residenza di famiglia Pico Farnese. Nonostante un'esistenza appartata e lontana dai salotti intellettuali mondani, il suo lavoro è riconosciuto da Giorgio Bassani, da Mario Soldati, da Eugenio Montale e da Italo Calvino, che ne curerà un'antologia nel 1982. Uno scrittore raffinato, uno scrittore interessante, uno scrittore originale. Questa è l'illustrazione proprio tratta da una delle edizioni dei racconti di Tommaso Landolfi, illustrazione del nostro racconto che stiamo per leggere, cioè Un destino d'Apollo, racconti impossibili pubblicato, cioè tratto dalla raccolta Racconti impossibili, pubblicato nel 1966. Il demone del gioco, assieme ad altri motivi autobiografici, sono al centro delle opere diaristiche, La Bière du Pêcheur, Rien va, De Moix, evidentemente ha scritto anche in francese, sì. Nel 1975 vince il premio Strega con A Caso, è stato collaboratore fisso del settimanale Oggi, di Arrigo Benedetti, scusate lui, tra l'altro ha avuto anche dei problemi economici, faceva fatica a sbarcare il lunario, pertanto andò a lavorare anche come giornalista, insomma, per cercare di guadagnare, un pochettino, no? E' infatti proprio la passione del gioco che gli procura gravi problemi economici. Lo induce a scrivere per il Corriere della Sera, poi abbiamo detto per oggi, più tardi sono invece le collaborazioni con il mondo di Pannunzio e le collaborazioni al Corriere della Sera, anche la sua vita sentimentale, diciamo la verità. Fu un po' strana e burascosa, nel senso che non si sposò se non a 50 anni, quando ebbe appunto poi due figlie da questa moglie. Landolfi si ammala di una lunga e dolorosa malattia, complice il clima rigido e umido di Pico, Pico Farnese, dal quale cerca sollievo a Sanremo, a Rapallo. A Farnese fa venire in mente il ducato di Parma, di Piacenza, c'erano i Farnesi, erano una famiglia nobile. A marzo del 78 è già il terzo ricovero presso l'ospedale di Sanremo per un ennesimo attacco di cuore, al quale segue la ricerca dell'isolamento e della solitudine. In solitudine, mentre la figlia si assenta per poche ore, è colpito da enfisema polmonare. Si spegne a Ronciglione, presso Roma, l'8 luglio del 1979. Dalla 1992, le maggiori opere pubblicate in precedenza da Vallecchi e altri editori ormai fuori catalogo, vengono ripubblicate dalla casa editrice Adelfi, a cura di Idolina Landolfi, figlia dell'autore. È Maria, detta Idolina, poiché nei lineamenti di lei lo scrittore rivede la madre defunta e quindi le dà, se vogliamo, anche il nome della madre morta. Ecco, la casa editrice Adelfi si caratterizza per la pubblicazione di racconti, romanzi, di carattere molto originale nell'ambito della letteratura italiana. Nel 1996, sotto la presidenza della stessa, cioè della figlia, nasce il Centro Studi Landolfiani che pubblica il bollettino Diario Perpetuo. E adesso andiamo a leggere, invece, questo racconto molto particolare, molto originale. Ecco, attenzione, io non so se voi conoscete questi altri due testi a cui faccio riferimento. Il dialogo del folletto di un ognomo dagli operetti morali di Giacomo Leopardi o questione di scale di Frederick Brown. Comunque, la tematica è la stessa, cioè assumere un altro punto di vista. spesso noi, appunto, siamo antropocentrici, cioè osserviamo la realtà, il mondo, l'universo, come se fossimo al centro, appunto, di questo universo e come se fossimo i padroni, forse, di questo universo. Certe volte gli scrittori ci inducono, attraverso questi scritti e racconti così originali, ci inducono ad assumere altri punti di vista, forse a mettere in crisi le nostre certezze. Spesso le nostre certezze, come vedremo nel caso del racconto, accade soprattutto a Joe, spesso queste certezze corrispondono alla mentalità dominante, alla mentalità comune e quindi sono testimoni di un conformismo. per cui davvero crediamo, pensiamo di poter fare di tutto della natura, ad esempio degli animali e non ci rendiamo conto che quello che facciamo certe volte può avere delle gravi ripercussioni che poi, appunto, possono colpirci in prima persona. Beh, brontolò Ted grattandosi la testa e poi cacciandosi la grossa mano tra la maglia e la schiena per grattarsi anche questa. Io non voglio dire nulla, ma insomma, da quando gli diamo questa dannata roba da mangiare, ormoni, o sai il diavolo, non è più la stessa cosa. No, proprio no. Allora, come vedete, Ted, il primo, sono due i protagonisti di questo racconto, è un po' scettico sui metodi che ha imposto Joe al loro allevamento di polli. Quindi ha gonfiato di ormoni questi polli. Ed ha dei dubbi. Ha dei dubbi che questo metodo davvero sia quello giusto. È Joe. Scusate, è Joe. Sentite un attimo cosa risponde Joe. Lo credo che non è la stessa cosa. Vengono su meglio. E più è la svelta. Replicò Joe sbadigliano. Eh, non si piglia un po' più di grana. Noi facciamo soldi. Se noi facciamo crescere i polli, i polli alla fine peseranno di più. Quando li andremo a vendere, saranno più grossi. Guadagneremo di più. E questo è il concetto di Joe, no? Già, non c'è discussione. Ma però, hai visto per esempio come è diventato difficile a chiapà? Hai visto come è diventato difficile a chiapare i polli? Adesso i polli, con tutti questi ormoni, sono diventati grossi, potenti, forti. Non riusciamo più neanche a chiaparli e ammazzarli. Pare lo sappiano dove vanno a finire. Ci tocca giocare d'astuzia. Qualche volta corre lì dietro, a uno per mezzo, per mezzo chilometro. Quando mai gli è garbato un po' l'astro di farsi tirare il collo. Joe cerca di minimizzare quelli che invece sono i primi indizi, sintomi di qualcosa di anormale che sta avvenendo a questi polli e a questo allevamento. Pertanto, dice, non dobbiamo preoccuparci se i polli non si fanno prendere. è naturale che i polli non si vogliono far prendere, no? Per tirare il collo. Va bene, scherza pure, ma qui è diverso. Hai visto anche come sono diventati grossi? E che c'entra? Ossia, tanto meglio. Eh no, qui c'è qualcosa, qualcosa che non va. Ma insomma, che vuoi dire? E che ne so io, guarda, guarda quello che fa Capolino di dietro. Non ti sembra che ci stia spiando? Si accomodi. E Joe prende in giro Ted. Pensi che pensi che quel pollo che si intravede lì dalla finestra ci stia spiando? Ma no, non la vedi con che faccia ci guarda? Faccia, questa è buona. Un pollo non ha faccia. Sì, nel senso, allora Joe tende a minimizzare, come dire, mi stai umanizzando troppo quel pollo. Il pollo è una bestia. Già, lo credevo anch'io fino a poco tempo fa, e invece ora ce l'hanno. E quando ne pigli finalmente uno, ti guarda con un'espressione. Anche l'espressione ci vedi. Piantala Joe, sì. Ti guarda in un modo da far venire i brividi qualche volta. Di un po' Tenti. Non avrai mica bisogno di un buon caffè. Joe tende a minimizzare e dice, guarda, stai avendo le traveggole. Ti stai preoccupando per niente. Hai solamente bisogno di un buon caffè. E tu, grand'uomo, ci hai mai creduto nell'intelligenza dei polli. Io no. Si dice perfino cervello di gallina. Beh, e invece ora non dico che siano diventati intelligenti, ma insomma sembra proprio che facciano tutto a ragion veduta. Se anche poi ci rimettono lo stesso le penne. Attenzione. oltre ai libri che ho citato potrebbero venirci in mente dei film dove accade proprio questo. Che certi animali prendano il sopravvento e riescano a fare agli uomini quello che generalmente gli uomini hanno fatto loro. E vi lascio immaginare a quali film sto pensando. Pensate, sono film angosciosi, pensate La pianeta delle scimmie piuttosto che ecco, sì, piuttosto che altri film del genere. Uffa! O non so se avete visto il film Tremendo Life si chiama Vita. È un film pazzesco. In cui però questa volta il protagonista non è un animale ma è un essere proveniente dallo spazio. Mi puoi prendere perfesso? Pensalo come ti piace, ma io ci sto più a contatto di te e ho potuto osservarli. E cosa hai osservato? Le prove? Tutto e niente. Tante e nessuna, si capisce. Si che stai buono e lascia fare a Dio. Allora, Joe, abbiamo detto, cerca in tutti i modi di minimizzare. Tuttavia, anche in Joe incomincia a insinuarsi la paura. Intendo dire che Joe si arrabbia sempre di più nel dialogo fra Ted e Joe. Joe perde le staffe e questo perdere le staffe, questo è nervosirsi, questo è arrabbiarsi. Noi dobbiamo cercare di capire che cosa significa. Significa che fra le righe significa che anche lui forse comincia a provare paura per quello che sta accadendo in questo allevamento. Certo, però, è stato proprio lui a volere gli ormoni, quel metodo di allevamento, eccetera. Per cui, non può assolutamente dare ragione a Ted. Capite? Facciamo così, saltiamo qualche dialogo, insomma, mentre stanno discutendo, a un certo punto si dice di fatto da qualche parte si levò un suono lacerante, lontanamente simile a quello che può emettere una macchina a vapore o una sirena ad opificio. Mentre stavano l'opificio e la fabbrica, a un certo punto mentre stanno chiacchierando fra di loro sentono un rumore fortissimo e cominciano a inquietarsi ancora di più. Si levò e in pochi istanti raggiunse un'intensità quasi intollerabile ma era singolare che come non se ne capiva in quel deserto la natura non si riuscisse neppure a focalizzarne la fonte. esso empiva l'aria e pareva provenire al tempo stesso da tutti i punti dell'orizzonte. A tratti scemmava appena ma per riprendere subito con rinnovato vigore quasi seguendo un suo ritmo che era piuttosto una sorta di implacabile ammartellamento. I vetri della baracca principiarono a tintinnare. A ogni ripresa del suono i due si sentivano svellere il cuore dal petto. Allora c'è una specie di spannung diciamo così cioè c'è un aumento della tensione un aumento della tensione che porta i due sempre di più a capire a cogliere che sta avvenendo qualcosa quel qualcosa che sta avvenendo lo capiscono però solamente quando escono dalla baracca corsero da una parte il suono non aumentava né diminuiva corsero da un'altra parte fu lo stesso alla fine parve loro di capire che il centro o epicentro del terribile frastuono fosse verso un colle buio e boscoso attenzione il buio il buio della notte eccetera non fa altro se non amplificare la paura di questi due allevatori insomma di questi due uomini che sorgeva a mezzo miglio da lì lontano quindi colti da questa paura tremenda escono fuori dalla loro baracca insomma da casupola e ora somigliava piuttosto a un ululo questo suono che prima sembrava indistinto adesso sembra un ululo un lamento singulto che magari si sarebbe potuto attribuire a un uomo un animale se però fosse stato possibile immaginare un essere tanto gigantesco di voce così tonante è come se fosse un verso di un animale ma doveva essere un animale grosso enorme e infatti cominciano a slanciarsi ad andarsi ad andare e corse da una parte e corse dall'altra ed aveva poi una curiosa corsa attrattiva magnifica ecco era come un lungo irresistibile richiamo a un certo punto loro si rendono vi sintetizzo si rendono conto che lontano dalla loro casa si trova una specie di grande enorme rete che cosa scoprono scoprono di essere stati ingabbiati e che questi esseri grossi enormi non sono altro sanno i polli che loro hanno allevato con questi ormoni che sono diventati giganteschi adesso sono loro che hanno ingabbiato gli uomini e che poi decidono di ammazzarli che cosa fa infatti questo tale pollo enorme il primo colpo di becco gli portò via di netto una gamba cioè prendono a beccare gli uomini gli staccano di netto una gamba a uno di questi uomini ma lui non si mosse non che perdesse i sensi fece ancora in tempo a vedere il terribile rostro abbassarsi vertiginosamente e stavolta pareva aver aggiustato la mira queste sono le ultime cose che lui vede prima di essere preso dal pollo è di fare il destino lui di un pollo cioè di essere preso fatto fuori dal pollo così come noi in genere facciamo fuori i polli tirando loro il collo altri video didattici su a tuttascuola.it grazie a tutti